Passiamo a qualche caso che non ho deciso di passare un po' di leo, ma sia via prensa. Mi sono preoccupato, passò per comprare un'occhiazza che non si tratta. Mi sono comprometto di un'occhiazza che arriva nel terreno laboral, ma non ho bisogno di trattare nel terreno laboral, non ho avuto a seguire. C'è un altro punto di preoccupazione grande di me, passò ora in regla, ho bisogno di un'occhiazza. E come un'occhiazza, mi sento anche nel momento, un po' come sarà un errore, non devo procedura, è il caso di perdere. Allora, io sono arrivato a un po' di risposta, che non è un po' di messa, ma non è un po' di risposta che continuateva a prendere. Inoltre, quando ho fatto, 15 anni, è un po' di risposta, non gli sono scopi di casa, ma tendo un cambiamento ed Yangonani, spesso gli altri, non sono scopi di un cambio, ma non sono scopi di una esperienza, ma non sono scopi di un caso che es potrebbero corregire. Mettete una domina, non miininano, non so sempreете così. E' un paese, un po' di risposta, mi sono cercato, a me interessi a dire che ci sembra, a me interessi a parlare di un Parlamento, della settimana passata, ma sia per il tema di aumenta di scuola, però non mi riunione, non aguarda il chiamare ancora, non si lo vai urgir, se che il Presidente del Parlamento fa il chiamare il riunione, ma l'euro possibile, per noi per attenzarci per il tema che non mi sono.